Ciao a tutti amici chitarristi, approfitto di questo breve video per salutarvi e augurarvi Buona Pasqua. Mi piacerebbe conoscervi tutti, siete più di 15.000 iscritti al mio canale e ogni giorno ci sono centinaia di iscritti in più. Se siete nelle vicinanze di Sulmona vi invito a vedere un evento religioso che si celebra tutti gli anni la mattina di Pasqua nella piazza principale della città, la Madonna che scappa in piazza. Vi lascio vedere un breve filmato. Sì, 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 sì. Ancora Buona Pasqua e Buona Musica a tutti e se mi vedete in piazza chiamatemi e ci salutiamo. Ciao